Ben trovati da Francesco, protagonista del nuovo video è l'Ergonomic Absolute Grip UnSport, modello uscito già nel corso dell'anno passato e che è stato confermato anche per la prossima stagione, un guanto di altissima qualità a un prezzo decisamente competitivo con lattice Absolute Grip Plus e una morbidezza da fare invidia a qualsiasi altro guanto Come già anticipato all'inizio del video il guanto è davvero morbidissimo, forse uno dei guanti più morbidi che noi abbiamo avuto in questi anni. Il taglio è l'Ergonomic e come avreste dovuto già aver capito vedendo altri guanti o leggendoci sul sito, sul blog o sulla nostra pagina Facebook, la caratteristica di questa linea è che privilegia le mani larghe e quindi la dimensione del palmo è leggermente più larga rispetto ad altri modelli, infatti come vedete la 8 che indosso va comunque un po' larga pur non impedendo nel complesso un utilizzo ottimale. Insomma non c'è molto altro da aggiungere, le proprietà del lattice Absolute Grip Plus ormai le conosciamo, ottimo sull'asciutto e buono sul bagnato, con un buon livello di ammortizzazione e una buona resistenza all'usura. Un guanto consigliato se non volete spendere troppo ma volete un modello professionale di altissima qualità.